direi direi di no direi di no sembrerebbe di no ok vado dritto verso le muni va dritto verso le muni cosa che avrà fatto anche con l'altro che è scelto è probabile sì tanto eredie va in giro con bravo beh ragazzi siamo tornati qua ci prende no eh sotto è possibile occhio sotto no però qua ci prende quindi sanno allora io ho un sensore battiti e vediamo lentissimo tra l'altro porca puttana dopo dovremo fare attenzione anche al gas e eh siamo in safe no via te sì sì ma per poco adesso ragazzi secondo me dobbiamo seguirne oh arrivano sono sotto di noi sono sotto qua sotto qua sotto eh in teoria attuale dovresti vederli adesso no non li vedo penso entreranno da qua io guardo le scale ah cazzo ma guarda lì là là si sta facendo dove oh là si sta scassando l'equipaggiamento occhio emi perché ce li abbiamo anche sotto eh drone bomba ossile nel settore io ne ho confermato uno eh ottimo ah a me è arrivato perfetto ma vaffanculo arrivo rivuole ma dai audio 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 ma io mando vaffanculo arrivano il sensore a 5 metri qua però credo che sto so porco dio dietro culo puttana occhio che c'è già l'armetta no in realtà c'è un hurricane del cazzo però spara bene spara bene bene ma io non lo vedo porco due cazzo non lo vedo ma non lo vedo vaffanculo dai ma mi fai girare il cazzo basta ho smesso di giocare ragazzi finito c'è incredibile oh eh non ti molla finché non te lo fai ti salta giù si ai bravo 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 sono ovunque mi sa che sono sul sono sopra doveva man ammazzato a me sono sopra oh ti vede ti vede ti vede abbassati frenuto vabbè ma è eh no no ma schia ho capito ma io non posso giocare a sto gioco dai ma si è rotto il cazzo cazzo porco dio facciamo ancora una no io la tengo grazie dai ci vediamo magari dopo ciao ragazzi ciao è così per tutti non è è così per tutti bottino qui è andato cazzo è andato bene non c'è neanche noi che cercavamo di essere gentili niente niente non c'è cagare c'è il suo momento vabbè ciao a me a dopo ciao 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 ciao